ilary ha beccato cristiana che sta nella camera di chanel per contare i soldi e gli chiede se hanno visto l'isola dei famosi ciao stai facendo l'indiano ma tu la vedi l'isola si mi segui abbastanza ti piace l'isola o no? si si non è che ti è sobbligato di essere onesto non v'ho sentito convinti l'avete visto l'isola ieri sera o no? si chi sta in nomination? ditemi i nomi dei nominati chi è il televoto? eh? chi è il televoto da buciardi? mamma! mamma! state facendo i conti? shani sta attenta non ti fa fregare l'isola dei famosi non l'hanno vista e chanel non ti fa fregare i soldi da tuo fratello